Ciao tesorucci miei splendissimi, come state? Io bene? Oggi torno con voi per voi con il mio video prodotti terminati del periodo. Ho un botto di roba, non mi ricordo cosa c'è perché è del periodo, non so che periodo, sicuramente un lungo periodo. Non ho la luce accesa del led, però sa parte qua super luminosa, sembra che c'è il led puntato addosso, ma così non è. Vi faccio vedere il trucco di oggi, se si vedrà mai. Non lo so, no. Sì, in effetti è buio, infatti voi vedete tutto scuro, però se mi metto così mi vedete forse buio. Comunque ho usato la palette di Kylie Jenner, quella dell'edizione natalizia dell'anno scorso, brevemente vi dico già che sì, bella ma non balla, nel senso carina, pigmentata, sfumabile, ma nulla di che. Un matte che ho usato, addirittura tende a fare chiazza, ecco, ho dovuto sfumare, stratificare, sfumare, stratificare un botto, però vabbè, comunque non c'entra nulla, volevo dire, carina, ma nulla di che c'è di meglio e c'è di peggio. Cioè, carina se la trovate, cioè, vabbè, ora a me non la trovate più, però se tutti, se tutte le polveri del brand hanno questa qualità, boh, non si vive bene anche senza, a meno che non la trovate in super saldo. Comunque, allora andiamo subito con i prodotti terminati, perché ho un borsone gigante, pieno zeppo di polvere, probabilmente, e i bimbi stanno dormendo, quindi muoviamoci. Visto così mi sembra più skin care, deodoranti, boh, vediamo. Allora, primo prodotto che tiro fuori è questa maschera per capelli della Pantene, forti e lunghi. Probabilmente più avanti ne ritroverete altre, perché ho fatto la scorta di maschere per capelli su Amazon, perché, boh, l'avevo trovate così scontate, volevo cercare il miracolo, eh. Questa non ha fatto il miracolo. Non vi so dire nient'altro, perché erano 160 ml di prodotto, l'avrò usata, sì e no, cinque volte esagerando e mi è finita, cioè, non so come sia possibile, eppure l'ho finita, quindi, boh. O i bimbi me l'hanno rovesciata, rovesciata, sì, ok, nella doccia, perché la lasciamo lì, o... boh, non lo so, vabbè, comunque, non vi so dire niente. Il profumo è sicuramente buonissimo. Sì, il profumo è divino. Poi, vado così a caso, ho terminato un profumo Dolce Gabbana The One, storico, me l'ha regalato un mio ex, ok, vi dicevo, cioè, ve l'ho mai detto, no, beh, sono stata tre anni con un ragazzo, mi aveva regalato questo, l'ho portato termina adesso solo perché aveva iniziato a cambiare odore, solo per quello. Mmm, che buono. Vabbè, comunque, l'ho terminato. Dolce Gabbana The One, buonissimo, magari potrei rifarci un pensierino, mamma mia, io odio la polvere, che schifo, vabbè, dopo mi lavo le mani, perché è da tanto, e che ho ste robe, tranne alcune cose che ho aggiunto di recente. Poi, ho terminato questo, qualche giorno fa, della Iodeima, un profumo che è praticamente il taroccato di Acqua di Gioia, infatti si chiama Acqua per Uomo, molto simile all'originale, m'era rimasta una spruzzata e l'ho usata, e boh, non volevo finirla, e quindi l'ho sempre tenuta lì. Mmm, buonissimo. Non so se avete mai provato profumi della Iodeima, Iodeima è tipo simile ad equivalenza, fa praticamente profumi originali, cioè le copie dei profumi originali. Che c'è chi dice che sono uguali, durano lo stesso tempo, a me no, raga, io sento che sono diversi, tipo questo, io non avevo l'originale, l'avevo sentito solo in giro, mi sembra molto simile, però non vi saprei dire se è proprio uguale. Di equivalenza, io ho preso l'imitazione di Blecopium e J'adore, sono completamente diversi rispetto agli originali, mi bruciavano il collo quando andavo ad applicarli, e la durata è molto molto scarsa. Vi parlo di tre anni fa, tre, quattro anni fa, adesso. Mmm, che cavolo, quando parlo mi viene sta cosa, boom, vabbè. Che vi stavo dicendo? Non so adesso se sia cambiato, ok, raga, ma no, io con i profumi oramai ho originali, ho originali, ho niente, no, 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 no. Ho terminato lo struccante di Shiglem, raga, che non lo fanno più, non c'è più su Shale, come faccio? Mi trovavo benissimo, struccava che era una meraviglia, costava poco, non c'è più. Non mi ha mai dato problemi sul viso, sugli occhi, quindi non capisco, non capisco, non capisco, ho terminato. Scusatemi se faccio così, ma mi sento come se c'ho tipo un blocco nel naso, anche l'altra volta che sono andata dall'estetista stavamo parlando, a un certo punto mi sono sentita sta cosa qua, eppure non sono affreddata. Poi ho terminato due deodoranti, eh, Dermomed e, eh, Neutro Roberts, delicato, eh. Ve li faccio vedere perché sono, eh, allora, Neutro Robert, Robert lo adoro perché non mi brucia le ascelle, anche dopo l'epilazione, non macchia e rimane tutto il giorno. Dermomed, eh, mi bruciacchia un po' le ascelle dopo l'epilazione, nulla di eccessivo, però ve lo voglio far vedere perché dura comunque anche questo tutto il giorno, eh, lo usavo anche per il corpo e... mai dato problema. poi ho terminato due creme viso, una della Geomar crema illuminante antietà con fiore di iris, questa è la scatoletta, io tengo sempre tutto, e questo è il pack, eh, me l'ha piaciuta abbastanza, non vi so dire altro perché, hm, hm, perché sì. Poi, di recente ho terminato dell'Oreal, questa qua, Revitalift Filler con acido ialuronico, ha una consistenza molto particolare, sembra un misto fra grasso e... non lo so perché non è né leggera né tanto pesante, sembra un po' grassa, ma non lo so, collosa, è una cosa strana, non so come spiegarvi, comunque mi è piaciuta davvero tanto, ho notato che quando andavo ad applicare questo viso, mi vedevo questo viso, sì, quando andavo ad applicare questa crema sul viso, notavo il mio viso più bello, cioè più bello, è più rimpolpato, eh, sicuramente è una crema che riprenderò, costa un bel po', eh, però ne vale la pena, vorrei prendere anche il siero perché c'è sia il siero che la crema, c'è la crema pure giorno e notte, questa invece era indifferente, mettiamola così, comunque, mi è piaciuta. Poi, altro profumo, Just, di Just Cavalli, l'ho portato a termine, lo usavo anche al lavoro perché mentre spolveravo, lo volevo far vedere, ma l'ho messo a posto, mentre spolveravo i miei trucchi ho notato che avevo un altro Just Cavalli nuovo, probabilmente perché l'avevo trovato in offerta e me l'ero comprato e questo era già a metà. Mi piace molto anche questo qua, non mi fa impazzire come alcuni profumi, ma mi piace. Adesso sono in fissa con un profumo di montale che sento tantissimo in negozio, ma non so il nome, cioè una mi ha detto che è quello di montale bianco, sono andata su un notino, ma di montale bianco ce ne sono un'infinità, quindi non lo so, è simile a Tonka, quello unisex, non so se avete presente, ma non è uguale, vabbè, non importa. Poi, ho terminato questo gel della Planeta Organica, non so se vi ricordate su Notina avevo fatto la scorta di questo brand, che poi alla fine non mi fa impazzire. aveva i semini, mi pare, molto viscido, no. Poi, qua abbiamo addirittura uno spray per le zanzare, quindi mi sa che non vi faccio i prodotti terminati dalla scorsa estate, perché zanzare tigre o comunque settembre, ottobre, non lo so. Vabbè, l'ho finito, non altro, mi piace tantissimo, è la marca Colpharma. Allora, qua c'è scritto che per bambini hanno oltre due anni, protegge fino a otto ore, ragazzi, credete che io qualsiasi cosa metto addosso? Le zanzare puntualmente persistono a mordermi, appungermi. Con questo prodotto, no, raga, ecco perché volevo far vedere, perché è magnifico. Io ho preso, giusto per farvi vedere, anche questo qua, che è ancora chiuso, mi ero già preparata e lo userò quest'estate, cioè quest'estate fra un po'. Ho preso questo, l'ho pagato un po' di più perché ha una durata invece di dieci ore. Non so se questo vada bene per i bimbi, addirittura va bene anche per le zecche. Vabbè, non so se voi sapete la differenza. Ah, qua c'è scritto zanzare tigre, comuni, tropicali, zecche e moscerini. Qua c'è scritto la stessa cosa, però c'è pure scritto malaria e febbre gialla. Ah, infatti questa si chiamava una cosa tropicale, ok, vabbè. Questa invece è un po' più per la città. Niente, comunque, mi è piaciuto tantissimo come prodotto, il primo prodotto che provo addosso che funziona su di me. Poi, ho terminato quest'olio di Mario Badescu, non ho capito se l'ha per il corpo o per il viso, io l'ho usato un po' ovunque. Non lo so perché erano solo... quanti ml? 59 ml, però già andandolo ad applicare su tutto il corpo due o tre volte, più ogni tanto l'ho usato anche sul viso. Non lo so, non ho capito niente di questo prodotto. Poi, ah, qua c'è il tappo delle cose della zanzara, ok. Ah, c'è anche qualcosino di makeup, eh. Quindi andiamo con le cose un po' noiosette. vi ho voluto mostrare anche questo dentifricio, questo dentifricio, wow, c'è anche una parte secca, eccola qua. Questo dentifricio qua per uomo, c'è scritto che non ho capito perché. Gli uomini hanno i denti più gialli, marci, non lo so. White and out, anti-stain, non so che cacchio vuol dire. Comunque della menta, dente, aveva questo colore, questo blu. mi è piaciuto tantissimo perché, allora, a parte che io adoro la liquirizia, andandola a lavare aveva qualcosina di liquirizia, non lo so, questo gusto di anice, boh, comunque buonissimo, lasciava l'alito fresco per un bel po' d'ore, denti puliti, boh, mi è piaciuto tanto. L'avevo preso solo perché l'avevo trovato in offerta. Poi, cos'altro abbiamo che non c'è azzecca niente? È una crema a corpo presa dall'hotel della Turchia, quindi vabbè. Poi, qua abbiamo di Tarte una mini size di crema viso, Tarte Drink of H2O. Io avevo anche l'originale, cioè l'originale, quella in full size che ho finito, però mi pare l'anno scorso. Questa, evidentemente, mi è uscita insieme a qualche set. Prodotto che mi piace tantissimo perché sembra veramente acqua quando voi l'andate ad applicare. Si stende bene, idrata tantissimo la pelle. All'inizio lascia un po' la pella appiccicosa, poi man mano che si assorbe, penso uno o due minuti mi sembra, non c'è più quell'effetto, però rinfresca tantissimo. È davvero un ottimo prodotto. Poi abbiamo qualche campioncino di profumo. Acqua di Gio, ecco, due che l'avevo sentito l'originale. Prada, Paradox, fatemelo sentire perché sapete che io me li tengo anche per me e magari mi piacciono e poi me li voglio comprare. Sì, buono anche questo. Non è un profumo. Io amo i profumi dolci o comunque agrumati e gli altri. Comunque questo qui. Poi ho terminato Kai, Kai Ali, Kai Ali, buh, love fest, love fest, vabbè sono campioncini che vi faccio vedere. Poi sempre di Calvin Klein, everyone. Ehm, non ho i, le carte. Poi cos'altro c'ho qua, euforia di Calvin Klein. Oh, lo sentivo un attimo questo qua di Kai Ali, Kai Ali. Boh, mi sa da quanto è felice. Poi, Too Faced, Hangover Pillow Cream. Questo prodotto mi sembra che non mi sia piaciuto. Fatemi vedere se... Crema notte. Sarà quello tipo rosino. Sì, era quello rosa. Ma una crema che non ha proprio senso. C'era una crema rosata che dava l'effetto illuminante, più o meno. Però spiegatemi che senso ha mettere una crema illuminante da notte. Che poi, quando viene assorbita la mattina, cioè non c'è più. Non lo so. E poi rosa. Cioè, perché rosa? Boh, vabbè, forse è solo per un fatto estetico. Non ne ho idea. Comunque non mi è piaciuta né per la funzione, perché non ha una funzione di niente. E né perché, boh, mi lasciava il viso pesante. Non so, boh, brutto. Non lo so. Non mi è piaciuta la consistenza. Poi abbiamo un burro cacao della Labello. una crema contorno occhi della Sien con melograna bio e bacche di goji. Che è questo qua, forse... Non so se... Sì, era... Madonna che puzza. Ok, questo qui è praticamente mezzo finito, ma non è totalmente finito. Ho deciso di cestinarlo, perché a quanto pare ha cambiato odore, visto che sa di piedi. Non lo so, di taleggio. Adore è sgradevolissimo. Come prodotto non mi piace, non mi è mai piaciuto. È il secondo o il terzo che compravo, mi pare della Sien. Lo sento troppo corposo, troppo pesante, non mi piace rastendere. Infatti per finirlo avevo iniziato a metterlo anche sulle labbra, perché una ragazza che mi vuoi anni fa, che è sparita o non commenta più, non lo so, mi aveva consigliato di usare la crema contorno occhi anche sulle labbra, perché era addirittura migliore dei burro cacao, oli, eccetera, eccetera. Ok, andiamo adesso con il make-up di make-up. Abbiamo questa tinta di Too Faced che non è finita, raga, ma non so se vi ricordate. Io avevo comprato per la prima volta su Vinted dei prodotti, cioè usati, nuovi, però usati, nel senso venduti come usati, ma erano nuovi, ancora sigillati. Questa è la tinta Caramel Apple e c'erano anche altre colorazioni, le altre tre colorazioni erano perfette. Questa mi era arrivata rotta, la tipa mi ha detto che lei non l'aveva manco mai aperta, che sono stati corrieri e quindi siccome era rotta ho cercato di usarla subito, finché potevo, poi appena ho iniziato a seccarsi ovviamente, ho deciso di cestinarla. Ottima, ottima tinta, profumazione divina. Peccato. Poi, ah, vabbè, qua c'era anche un balsamo labbra di Sephora che mi è durato una vita, raga. Cioè, ah, boh, nulla. Mi sembrava strano di averlo terminato totalmente, no, alla fine, a quanto pare, lo vedo anche sporco, ok, ho deciso di cestinarlo perché i bimbi sono andati a prenderlo e ci hanno pastrocchiato, non so che cacchio ci hanno buttato dentro e pieno di peli. Vabbè, comunque era davvero tantissimo, era un malloppone altissimo, l'avevo pagato 5 euro, mi è durato davvero una vita, raga, una vita. Ho deciso di cestinare anche questo fondotinta dell'Oreal, l'Accord Parfait Genius, 4 in 1, ne ho ancora uno chiuso, che ho messo in vendita. Questo ho deciso di venderlo perché è vecchio. Vabbè, sono arrivata a sta cosa, è vecchio, poi non mi piaceva più, non lo so, mi dava tipo effetto mascherone, ma non so se è perché è cambiata la texture, perché è un prodotto super vecchio o semplicemente mi è cambiata la cute a me, non mi fa più tanto impazzire. E poi l'avevo aperto da anni. Poi abbiamo eyeliner di She Glam, quello con la doppia punta, quello per fare la codina. Non so se si vede che ha il triangolino e la parte proprio a penna. prodotto che mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato penso per quasi un anno e continuavo a scrivere. Ho deciso poi io di cestinarlo perché ho detto cacchi, ha aperto già da un botto di tempo, ne ho tanti, sapete che ho fatto la scorta di questi perché mi piaceva un botto. E ho detto voglio provare altri eyeliner perché ho altri eyeliner di altre marche, bla 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 e quindi poi ho deciso di cestinarlo. ottimo, durata, cioè una roba dura tutto il giorno, non dà problemi agli occhi, è un nero intenso, stupendo, stupendo. E poi per me è una cacchiata applicarlo. Poi ho terminato questo primer di Wicom, un prodotto, cioè praticamente giravo qua, che ora non si gira più perché l'ho terminato e usciva il primer. Ottimo primer, lasciava la palpebra appiccicosa ma quella appiccicosa serviva appunto ad appiccicare l'ombretto. Infatti i colori risaltavano al massimo, la durata era indescrivibile e boh, bello. Un po' scomodino secondo me il pack perché molto prodotto si è sprecato secondo me. Poi io non andavo mai a spalmarlo con questo, cioè lo giravo, lo mettevo però poi lo spalmavo col dito. Quindi vabbè, non so se si ritrova ancora da Wicom, ma non credo. C'è scritto primer occhi a lunga tenuta, boh, non c'è scritto nient'altro, comunque è fatto così. Poi abbiamo un mascara di NYX per carità, raga, per carità, uno schifo totale. Questo non l'ho proprio finito, l'ho usato due o tre volte, ma è inutile, cioè è veramente inutile. Non so se mi è arrivato rotto, cioè è rotto, era uscito in un set, ma non so se nel set si era già seccato perché non scrive. Eppure io col cosino lo sento che c'è prodotto, ma lo scrive, raga, sembrano i mascara che si trovavano nelle trusse di... Come si chiamava? Miseria, c'era un marchio che si trovava sempre dai cinesi. O workshop, workshop, esiste workshop, vabbè, un coso così, tipo che faceva trusse inutili, cioè è peggio dei trucchi da bambina, quindi vabbè. Comunque si chiama worth it hype, volume e le... volume e le... no, non so che cazzo sia. Comunque, inutile, raga, inutile. Cioè penso che è uno dei pochissimi mascheri... Io è difficile che butto i maschera nuovi, ma se lo buttate perché è veramente uno schifio, raga, è inutile. Poi ho terminato il Better Than Sex, mi piace tantissimo. Il Better Than Sex è un mascara che appena apro mi fa cagare, già il secondo giorno che inizia a seccarsi è la vita. Stupendo. Ho terminato di Maybelline il Brow Drama, questo mascara per sopracciglia. Sopracciglia, sì. Il colore era il mio, lo usavo allora o sopra la matita per fissare, oppure quando non avevo voglia di farmi le sopracciglia, andavo solo con questa, tanto per dare quel minimo di colore e pettinarle un po'. No, ok, questo qua non è quello con... Ne avevo uno con le fibre, simile a questo, che doveva in teoria dar l'impressione di avere più sopracciglia. Vabbè, questo qua no, è un semplice coso. Comunque è un prodotto che mi è piaciuto abbastanza. Poi abbiamo due matite sopracciglia, una Paula P e questa raga che è così, era doppia. Questa era del numero 03 Brunette, mi si conosce la marca, non so se era dell'Oreal o della Maybelline. Era doppia, da una parte c'era la cera e dall'altra c'era il colore marrone. Entrambe mi sono piaciute tantissimo, sì, però in realtà questa qua mi è piaciuta molto di più, perché rispetto a Paula P era molto più scrivente, molto più burrosa, quindi scivolava. Però ovviamente più era burrosa la mina, più si consumava, più andavo a temperarla. Però entrambi due prodotti molto molto validi, durata ottima. Poi ho terminato, ah no, qua non ho terminato, c'ho un pezzo di un pennello, che c'è sinato perché a quanto pare si è staccato il coso, non so dove sia il resto. Poi abbiamo quattro mascara, abbiamo finito. Un mascara di Shiglem Max Impact, anche questo non mi è piaciuto. Sicuramente un po' di più di quello di NYX, ma infatti l'ho usato forse due o tre mesi, praticamente il tempo giusto, ma io di norma e mascara li uso molto di più. Non mi è piaciuto, infatti ne ho altri due, mi pare, perché avevo comprato un set e ce n'erano tre. Non so se provare a venderli, magari a qualcun altro scrive di più, non lo so. Non è che non scrive, scrive quello, ma mi fa le ciglia normali, cioè non me le incurva, non mi fa un effetto volumizzante più lungo, nulla, cioè mi dà un minimo nero, quindi buh, non lo so. Poi di Mulac, il Black Mamba, anche questo non mi è piaciuto affatto, a parte che non mi piace lo scopolino, lo scopolino, perché mi pungeva. E poi, no, tanto nominato, ma su di me, da, flop. Non è ai livelli di NYX, ma non mi è piaciuto, cioè si scriveva, ma faceva grumi, mi pungeva, non lo so, non lo so. Poi abbiamo di Wicon Supreme Volume, mascara volume estremo, Wicon mi piace tantissimo invece per quanto riguarda i mascara. Cioè, tutti i mascara che ho usato, mi sono piaciuti tanto. Allora, sono dei neri intensi quelli che ho provato io di Wicon, l'unico difetto, se proprio è, che tendono a fare da subito i grumi. Però, alla fine, sono mascara che io prendo quando trovo a 3,90 euro, e nel complesso, quindi, ci sta, raga. Perché hanno un nero intenso, mi fanno delle belle ciglia, non mi bruciano gli occhi, non mi fanno lacrimare. Quindi, anche se fanno un po' di grumetti, che tanto io riesco poi a togliere. Cioè, chissene, voglio dire, per 3,90 euro. Qua abbiamo, invece, un prodotto per struccare il mascara e le sopracciglia. Prodotto che io andavo a usare anche sulle palpebre, cioè lo tamponavo sulle palpebre come struccante occhi. E poi andavo con della carta o della salvietta. È un semplice olio struccante, fatto così a scovolino. Questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. Ne ho un altro addirittura aperto, perché l'ho ricomprato perché mi è piaciuto tanto. Ma noto che per mia svogliatezza non lo uso, perché non c'ho mai voglia di mettermi là, togliermi il mascara, togliermi la e vado direttamente con la salvietta estruccante. Questo, raga. E boh, i prodotti sono finiti qua. Io direi che vado a buttare l'intera cosa. Mi butto anche le mani. Cerco delle mani di ricambio, vabbè. Mi lavo bene le mani perché il sapolvere... Già mi scazza che mi sono fatta la doccia. Mi sono lavate i capelli per ritrovarmi in modo di nuovo sporchi. Niente, ve lo volevo fare, ve lo dovevo fare. Il prossimo video penso che sarà il video haul perché devo sistemarmi anche le cose. Ciao!